Grazie a tutti, sono Raffaele Volpi, senatore della Lega e ho avuto l'incarico dalla segreteria federale del nostro movimento di coordinare l'azione per le prossime europee nei collegio centro, meridionale e isole. Su questa prospettiva politica, che è sicuramente una prospettiva inclusiva, con basta euro, lavoro e sicurezza, noi siamo certi che ci sarà un risultato importante. La dimostrazione dell'interesse per la nostra posizione è già evidentemente condivisa, stamattina ne è l'immagine della dimostrazione palese ed evidente. Io non voglio dilungarmi, avete capito che la nostra è un'azione seria, molto concreta, siamo gli unici a dire in maniera definitiva senza se e senza ma basta euro, siamo gli unici. E quindi su questa partita politica, che è un referendum sull'euro, perché le prossime europee saranno un referendum sull'euro, noi ci giochiamo non la nostra faccia ma il futuro degli italiani e dei nostri figli. Questa è la realtà. Io lascio subito la parola all'onorevole Arrighi, che presenta questa nostra vicinanza che ormai diventa ufficiale e quindi a te la parola. Grazie Alberto. Grazie, Raffaele. Buongiorno. Allora, io mi presento, provengo dalle fila della destra italiana, sono stato deputato di alleanza nazionale, ho fatto tutta la mia storia all'interno di quella che era la destra sociale e di governo italiana, provenendo dal fronte alla gioventù. Abbiamo trovato una forte condivisione con la battaglia che ha messo in piedi Matteo Salvini e la Lega Nord in questo momento. Per noi è stato qualche cosa di positivo poterci incontrare, vedere come una forte rinascita, da questo punto di vista, delle nostre iniziative politiche potesse farsi in un cammino comune. Abbiamo deciso, insieme ad altri amici provenienti dalle diverse realtà della destra a livello nazionale, provenienti dai diversi movimenti che ci sono, insieme a loro abbiamo deciso di lanciare un'associazione, l'associazione che presentiamo oggi, che si chiama Patrie, scritto in latino, associazione che vuole riunire con non poche ambizioni su un appello tutti, cioè patrioti di tutta Europa, unitevi. Questo è il punto principale su cui giochiamo. Crediamo che oggi la partita profonda in Europa sia quella di difendere, tutelare l'identità e battersi per la riappropriazione della sovranità monetaria delle singole nazioni contro il mostro creato da Bruxelles e il terrificante mostro monetario che invece assiede a Francoforte. Qualche tempo fa, prima di venire sostituito da Renzi, l'ex premier Letta ha detto in una conferenza stampa, se non ero proprio a Bruxelles, che avevano un terrore quello di vedere il Parlamento europeo della prossima legislatura con una presenza di una fortissima rilevante componente, il 25-30% di deputati che facevano capo a movimenti contro l'euro. Noi speriamo con questa nostra azione di supportare Matteo Salvini per far diventare questa loro paura un vero e proprio incubo. E di questo ne siamo convinti. Ringraziamo Matteo Salvini per aver avuto il coraggio di unirsi anche a movimenti scomodi in Europa e ad aver siglato una vera e propria alleanza con chi difende l'identità, a partire da Marine Le Pen insieme ad altri, con cui poi questa battaglia europea parte dal basta euro, credo che si possa spostare su tanti altri terreni. Io mi fermo per il momento qui, ringraziando di nuovo Matteo, gli lascio la parola. Telegraficamente, io sono Paolo Grimoldi, parlamentare della Lega, mi occupo per co-audiovo la nuova associazione che è nata qua a Roma e la presenza della Lega qua a Roma. Un dato per tutti, ai primi di aprile apriremo anche un centro elettorale, una sede come movimento politico e sul fronte invece associazionistico partiamo da Roma. Ma il messaggio che vogliamo dare è che partiamo da Roma e l'intento è quello di rimanerci per fare cultura e fare anche politica. Detto questo, per quanto riguarda il Lazio, si occupa dell'associazione Lucia Alonzi, che se ci dici due cose. Buongiorno, io sono Lucia Alonzi e mi occuperò da questo momento un po' dell'associazione Patria per quanto riguarda il Lazio cercando di essere io e la Lega di Matteo Salvini un punto di riferimento per quanto riguarda tutto il mondo che viene dall'ambiente di destra. Grazie Riassumendo, è una bella sfida che come Lega vogliamo giocarci. Apriremo una sede a Roma ad aprile e verrò personalmente ad inaugurarla. Il 29 e 30 marzo cominceremo una campagna di raccolta firme in tutta Italia per cinque referendum di cui parleremo più avanti, però si potrà firmare in tutta Italia, saremo presenti con i moduli in comune di tutta Italia e due referendum, soprattutto abolizione della riforma Fornero e cancellazione della legge Merlin. Penso che saremo ben presenti anche in diversi mercati e periferie di Roma per fare questa battaglia. Incontri sull'euro non ne erano previsti al sud, ad oggi, visto il tempo, comunque posso preannunciare che sicuramente ne organizzeremo a Taranto, a Reggio Calabria, a Cagliari e a Catania. Io personalmente entro nella campagna elettorale nel nome del liberare le energie pulite del sud farò una puntatina anche a Casal di Principe, che è simbolo di tutto quello che in Italia e in un certo sud non funziona ed è abusivo e quindi andremo nella tana del lupo, andremo a stanare quella che è Camorra, Mafia e Andrangheta in casa loro, nel nome di un'altra Europa e di un'Italia più pulita, non cambiando nome, altri cambiano nome, simbolo, si vergognano, noi ci chiamiamo Lega Nord e quindi continuano ad essere federalisti, autonomisti, indipendentisti, però il mostro europeo ieri ben rappresentato da Renzi e dalla Merkel, che sono due facce della stessa putrida medaglia, merita di essere combattuto dalle Alpi all'Ampedusa e quindi la sfida la raccogliamo, avremo un ufficio nella sede di Via Bellerio destinato a dare risposte a tutta la gente che vuole darci una mano e sono veramente tanti, io do il numero, se poi qualche collega giornalista avrà la bontà di riportarlo in due righe, non ci dà fastidio, il numero è 0266 234 238, a questo numero c'è gente che sta chiamando da Lecce, da Bari, da Salerno, denunciando questo, quel problema locale o generale, quindi come Lega, qualcuno può dire per assurdo, ma a noi piacciono le sfide difficili, ci mettiamo a disposizione anche di tutto il sud che si vuole euro liberare e vuole respirare e camminare con le proprie gambe. Marine Le Pen all'ultima sessione di Strasburgo di aprile verrà siglato un patto europeo, un'alleanza fra popoli liberi, che ripeto vede nelle due finte facce, nei socialisti e nei popolari, nella Merkel e in Renzi, che sono la stessa roba, sono la stessa euro follia, sono lo stesso euro crimine, ecco noi andiamo a Bruxelles e a Strasburgo, in compagnia di compagni di viaggio che ci dicono essere brutti e cattivi, ma io preferisco dei compagni di viaggio brutti e cattivi con le idee chiare rispetto a dei fessi che ci hanno venduto il futuro, e quindi a metà aprile sigleremo anche questa alleanza di popoli liberi. Sono convinto che dal centro e dal sud arriveranno non solo tanti voti, perché non è una battaglia elettorale che finisce il 25 maggio, la battaglia la vinceremo dal 26 maggio in poi, quando le idee di autonomia, di sovranità, di identità, di tradizione e di futuro, portate avanti dalla Lega, magari riusciranno a camminare con le proprie gambe in tutta Italia, in Salento, piuttosto che in Sardegna, piuttosto che in provincia di Napoli. E sicuramente Roma, apro con una riflessione che all'inizio mi aveva lasciato un po' stupito, se non preoccupato, quando mi hanno detto che la seconda città per amicizie su Facebook, per quanto mi riguarda, dopo Milano e Roma, inizialmente ho detto allora che c'è qualcosa che non funziona, perché veniva prima di Brescia, di Torino, di Venezia e di Genova, invece ci sono tante battaglie sulla sicurezza, sull'immigrazione, sulla sovranità monetaria e sul futuro che ci accomunano. E quindi gli sprechi di Roma continuano ad essere gli sprechi di Roma, così come da nord a sud, però la battaglia è comune, raccogliamo la sfida e vi aspettiamo all'inaugurazione della sede della Lega Nord a Roma, e quindi ne vedremo delle belle. E sono contento che alcuni militanti che erano a destra, immagino continuino a rimanere culturalmente, mentalmente e affettivamente a destra, però riconoscano che una battaglia comune con la Lega si può e si deve fare, visto che una certa destra ha perso l'anima e ha perso il cuore, quindi se riusciamo a recuperare un po' di anima e di cuore noi sono solo contento. Se ci sono domande... Premessa, io ho portato la Le Penna in Italia e a Roma, sono Fabio Torriero, direttore di Intellico News, con Borghezio, ho curato l'edizione italiana di Controcorrente. Domanda, perché per il Kosovo, a proposito di padri e di autoderminazione dei popoli, perché per il Kosovo sì e per la Crimea no? Cioè perché l'autoderminazione della Crimea non vale mentre il Kosovo sì? Lì si creò un precedente in Kosovo. Nella domanda c'è la risposta, perché gli interessi appunto degli euro criminali, e non solo degli euro, ma degli affaristi su scala planetaria, in Kosovo avevano una certa esigenza, in Crimea no. Viva il referendum della Crimea, viva la libertà di scelta dei cittadini, viva il referendum che ci sarà in Catalogna, viva il referendum che ci sarà in Scozia, sosteniamo con tutte le energie possibili la richiesta di referendum in Veneto, se ci fosse un referendum salentino, sosterremmo un referendum salentino, quando la gente si esprime è sempre una buona notizia, a prescindere dalla latitudine e dall'ideologia. Quindi chi non riconosce legalità al voto della Crimea va contro anche i trattati internazionali, perché il principio di autodeterminazione comunque non lo decido, non è la Merkel, né Obama, né Barroso.